Ciao a tutti e benvenuti su Macerix Tutorial. Innanzitutto buon anno, buon 2024. Quest'anno voglio farvi vedere come primo video come effettuare la cessazione da Mediaset Infinity. Se avete effettuato un abbonamento solo con Mediaset Infinity, mensilmente ad esempio, potete effettuare la cessazione entrando su, in alto a destra dove c'è l'account, entrate, una volta entrati troverete i tuoi piani e i tuoi noleggi. Cliccando qui vi riporterà Mediaset Account, i tuoi piani e i tuoi noleggi, Infinity Plus, mensile, stato attivo, rinnovo 7 gennaio 2024. A me in questo momento non occorre più, quindi basta scendere in basso e cliccare su Recedi dai servizi a pagamento, Recesso dai servizi a pagamento, proseguendo, Confermi recesso dalle condizioni generali. Infinity Plus mensile, che ho attivato il 7 novembre 2023, clicco su Conferma recesso. Recesso dai servizi a pagamento avvenuto correttamente. Chiudi. Appena effettuato il recesso da Mediaset Infinity, guardate, è arrivata una mail. Mediaset Infinity, conferma recesso. Recesso eseguito. Spero che il video sia utile, lasciate un like, condividetelo e mi raccomando iscrivetevi al canale. Un abbraccio, ciao a tutti da Macerix.